Altro appuntamento con gli amici di Domenica Sport. Questa sera abbiamo un ospite che in sostanza conoscono un po' tutti, non soltanto a Campobasso ma nel Molise e anche fuori regione perché è un ospite comunque collegato al mondo della musica. Noi abbiamo avuto spesso ospiti collegati al mondo della musica leggera, questa volta è un attimo diverso perché, così lo presento e lo ringrazio, abbiamo ospite Antonio Colasurdo. Antonio Colasurdo è un maestro di musica, insegna al conservatorio, dirige il coro del Venerdì Santo, hai un'ampia attività concertistica, perché ogni tanto mi mandi degli appuntamenti, quindi non è che sei veramente musicista, diciamo, a tutto tondo. È così. È così. Allora, vieni dal tuo paese d'origine, Morrone, no? Sì, sono originario di Morrone del Sannio, però vivo qui a Campobasso dal 92, da quando praticamente mi sono sposato e quindi sono un campobassano di adozione ed è una città che amo molto e oggettivamente ci sto anche molto molto bene, quindi mi piace molto. Allora, finita praticamente la scuola dell'obbligo, la scuola mente, tu hai sposato subito, diciamo, questo mondo della musica, perché hai scelto di fare il conservatorio. L'ho sposato subito perché questo è una passione che mi porto dentro fin da quando ero bambino e per me… Ma come, cioè, ti piaceva ascoltare? Come ti sei accorto che quella poteva essere veramente la tua strada? Perché a un bambino se dici che vuoi fare da grande… Ecco, tu quando ti facevano questa domanda, già pensavi alla musica? Sì, per me non c'è stato un momento in cui io ho deciso, cioè sembrava che facesse effettivamente parte di me tutto quanto. Mio padre suonava un pochino così l'armonium in chiesa, però poi anche le attività musicali che si facevano in paese, tipo le mascherate di carnevale, le rappresentazioni per la festa dell'uva, insomma, tutte le varie… anche le piccole cose che si facevano così a Capodanno, il giro per le case, per le festività di Sant'Antonio Abbate o San Giuseppe, insomma, tutto questo confluiva nella musica e nel mio essere partecipe di questo, senza volerlo. Io non mi sono mai chiesto il perché o il per come, lo facevo e basta. Faceva parte della tua vita? Sì, sì, è sempre stato così. Ma tuo padre? Si chiama Raffaele, mamma Gabriella. E che strumento suonava? Ma papà ha fatto… O suona, eh? Papà ha fatto per tanti anni il sagrestano in chiesa e quindi, ob torto collo, gli toccava accompagnare un po' le funzioni religiose e quindi suonichiava un po' l'armonium che all'epoca era nella chiesa. Quello che si chiama comunemente organo? No, proprio l'armonium, al paese c'era l'armonium che è quello strumento che si suona facendo con i pedali a modi bicicletta. Ah, ho capito. Ecco questo. Va bene, quindi insomma c'è stato questo ambiente familiare perché tu a un certo punto non ti sei nemmeno chiesto perché, però a un certo punto finita la scuola dell'obbligo hai detto… Sì, ma ripeto da subito, quello è stato uno sbocco naturale, condito anche da qualche incertezza e da qualche paura perché non è che si conosceva molto l'ambiente di Campobasso, soprattutto non è che si conosceva molto l'ambiente del conservatorio perché io sono nato nel 65 e se pensiamo al conservatorio è nato nel 71, quindi era ancora giovane anche l'istituzione. Molto giovane. Eh sì, quindi quando io ho cominciato non si capiva quello che era questa scuola, tant'è vero che io pensavo di suonare l'organo perché suonavo la pianola, quando poi ho capito che l'organo era l'organo a canne che si trova nelle chiese insomma lì c'è stato un attimo di smarrimento, di sbandamento perché io non sapevo che l'organo fosse quello. Quindi però voglio dire la scelta è stata più che azzeccata. Mi dicevano ma fai pianoforte che è meglio, così si diceva diciamo all'epoca e io dicevo no voglio fare l'organo perché lo so suonare, in realtà io suonavo ad orecchio per cui non avevo benché minima conoscenza di quello che fosse il fatto musicale in sé, sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista teorico. Quindi siccome suonavo ad orecchio è entrato al conservatorio hai cominciato evidentemente anche la teoria, lo studio del pentagramma. E' stato un fatto, io ero affamato di conoscenza e quindi è stato molto naturale questo passaggio, cioè non mi ha pesato affatto, anche se ne ero spaventato perché vedevo che altri compagni miei di studi magari avevano già superato quelli che erano le prime fasi dell'apprendimento teorico musicale, tecnico specifico, io invece ero totalmente a digiuno. Però poi c'è stato, sai quando c'è una gara di automobili e magari tu parti con un'automobile piccolina che poi man mano ci metti il turbo e vai avanti, ecco quello ero io. Piano piano sono andato, ho recuperato. Hai fatto il percorso al conservatorio e quindi hai ottenuto il diploma? Eh sì, mi sono diplomato in organo e composizione organistica, questa era la materia come si chiamava allora. Adesso con la riforma ha cambiato nome ma sostanzialmente l'approccio allo strumento è rimasto tale. Quindi ho ottenuto questo diploma, poi ho ottenuto anche il diploma di Clavicembalo che è un corso superiore e anche il diploma di didattica della musica. Anzi sono stato il primo diplomato in didattica della musica del conservatorio di musica di Campobasso. Io e un'altra ragazza, Angela Di Biase, però io la precedo perché con la surdo viene prima, quindi sono diplomato prima io in ordine alfabetico. Quindi ti sei diplomato qualche minuto, qualche mezz'ora prima. Ho finito questo percorso, ci si trova di fronte evidentemente, perché già adesso mi sono trasferito a Campobasso, ho il diploma in questo che hai detto tu, organo e composizioni, Clavicembalo e compagnia bella, e quindi però bisogna poi trasferirlo evidentemente nel mondo pratico. Io sì, questo è quello che poi si è verificato in effetti, perché ho fatto vari concorsi, ma poi il concorso della vita è stato quello che abbiamo fatto con il decreto ministeriale dell'89, i concorsi a cattedra per esami e titoli, che è durato più di due anni, è stato tenuto a Trieste. Io ti dico che abbiamo fatto la prova scritta, io ho fatto la prova scritta quando ero in viaggio di nozze, quindi mi effetto anche nei panni di mia moglie. Ma interrotto il viaggio di nozze. Abbiamo fatto il viaggio di nozze andando a Trieste, quindi tutte le tappe erano sulla litoranea che ci portava a Trieste, poi c'è stata questa prova scritta che è durata 12 ore, il 30 di aprile, io mi sono sposato il 20 di aprile, il 30 di aprile c'era questa prova, praticamente 12 ore è durata la prova, poi ci furono dei ritardi, ricordo benissimo, per le fotocopie che dovevano girare. Insomma mia moglie quel giorno è stata 16 ore da sola in albergo, perché a Trieste non poteva nemmeno uscire perché c'era la bora forte. Vabbè quando tira la bora tira a 120 km all'ora. Questo concorso è durato due anni e alla fine io sono risultato ultimo della graduatoria delle idonei, ma lo dico con molto orgoglio perché praticamente sono stato l'unico candidato del Sud che ha superato questo concorso, a parte un altro candidato, il maestro di Lernia, che era di Foggia, però lui aveva già avuto esperienze anche all'estero. Diciamo che questo è stato un risultato strabiliante per quanto mi riguarda, perché poi è questo che mi ha portato all'insegnamento nei conservatori, quindi al posto di ruolo. Certamente, senti, che poi tua moglie, che si chiama? Mia moglie si chiama Filomena. Filomena, l'hai conosciuta? Galeotta fu la musica. Non fu il libro e chi lo scrisse. No, 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 Galeotta fu la musica, perché ci siamo incontrati, cantavamo insieme in un coro, nel coro del maestro Messore, all'epoca era il polifonico e lì poi ci siamo conosciuti, ci siamo continuati a frequentare, poi ci siamo un po' persi di vista e poi durante la licenza ordinaria del servizio militare che io ho fatto, che ancora si faceva, io l'ho fatto il servizio militare e, diciamo, durante la licenza ordinaria ci siamo rincontrati e, diciamo, abbiamo ripreso… Avete deciso, perché non ci sposiamo e facciamo il viaggio di nozze andando a Trieste? Ma detto così potrebbe essere così simpaticamente ricordata la cosa, ma guarda che è andato forse proprio così, perché noi ci siamo rimessi insieme, o meglio, messi insieme il 28 di agosto, il 20 aprile eravamo sposi, quindi un fidanzamento durato pochissimo e quindi non so… L'importante è che è durato il matrimonio e in essere… Beh, 20 aprile 92, siamo nel 2023, quindi… Eh certo, sono 21… 31. 31 anni, sì. Faremo 32 d'aprile. Eh beh, io francamente auguro sia a te, perché naturalmente a tua moglie Filomena di, voglio dire, festeggiare i 50 anni di matrimonio… Non mettiamo limiti alla provvidenza. Non mettiamo mai limiti alla provvidenza. Il mio augurio sicuramente è questo. Oh, a un certo punto tu inizi ad insegnare qui a Campobasso, io mi ricordo per esempio, parliamo un attimo di questa direzione del coro dell'addolorata, no, della processione del Venerdì Santo, io mi ricordo ad esempio il maestro Fornaro, poi c'è stato il maestro Aurisano, eh, Don Armando che… Mitico. Mitico Don Armando che una volta mi ricordo, perché io ho avuto Don Armando insegnante di religione, alle medie, una volta con l'organo della cattedrale, eh, per farci, eh, diciamo, una sorpresa, eh, accenno, eh, a wider shade of pale, no? Ma era bravissimo, quella canzone di Procollarum, poi la cover in Italia è stata fatta dai Dick Dick, senza luce. E quindi, a un certo punto, che è successo? Te l'hanno proposto di prenderti questo onere? Perché immagino che sia sostanzialmente un onere, no? È un onere ed è anche un onore, devo dire la verità. Eh, io, prima che prendessi in mano questa situazione del Venerdì Santo, il Venerdì Santo per me era l'unico giorno libero dell'anno che avevo, perché da quando ho cominciato a fare l'organista in cattedrale, appunto sotto la direzione di Don Armando, il Venerdì Santo io non ero impegnato, facevo di tutto, tutte le cerimonie, però il Venerdì Santo no. Quindi quello che dovevi fare, per esempio, con tua moglie, aspettiamo il Venerdì Santo, usciamo insieme? Sì, guardavamo la processione dall'esterno ed era sempre una bellissima emozione per quello che ovviamente ognuno di noi sente. Poi, quando invece è passato a me questo testimone, il Venerdì Santo è l'unico giorno dell'anno che mi impegna poi per tutto l'anno, quindi paradossalmente, questo io lo dico da sempre. Niente, in una delle ultime prove del Venerdì Santo che Don Armando fece, volle che fossi presente io, e disse pubblicamente il maestro Colasurdo mi sostituirà in tutto. Questo in tutto io non avevo ben capito cosa fosse, l'ho capito poi col tempo. In effetti è davvero un onore, un onere, ma è una grandissima responsabilità. E questo io la sento proprio in maniera forte, forte, forte sulle spalle perché è difficile anche relazionarsi con tutti e settecento i cantori perché da ciascuno tu devi cercare... Settecento? Sì, il numero è quello. Da ciascuno tu devi cercare di avere il meglio, però senza pretendere troppo. Ci deve essere un rapporto di fiducia, di stima reciproca, cosa che grazie a Dio c'è. Però ecco, sono rimasto così, mi sono trovato catapultato in questa avventura, senza ne chiederlo, senza saperlo. Forse è il modo in cui si è svolta proprio la mia vita da bambino, cioè uno si trova e lo fa, perché è quello che probabilmente a cui sei destinato. Chissà, c'è un disegno che noi non riusciamo a capire. Ovviamente in tutto questo devo ringraziare intanto lui che mi ha dato questa fiducia iniziale, ma ovviamente devo ringraziare Don Michele e Don Marco che me la stanno continuando ad accordare questa fiducia e vorrei approfittare anche per ringraziare tutti i cantori, gli elementi della banda, tutti quanti quelli che concorrono ad organizzare tutti gli aiutanti, insomma il venerdì santo, perché da solo io non ce la potrei mai fare. Ma non ce la può fare nessuno, se non c'è una squadra, io l'ho sempre detto, cioè in un altro campo, ma io ho una squadra, perché altrimenti non riesci ad organizzare qualsiasi cosa. Senti, ma una domanda così, proprio veramente molto molto leggera, ma c'è qualcuno tra questi 700 che poi fa il playback? Non ce n'è un qualcuno. O non te ne sei mai accorto? Ce ne sono tanti, ma io a volte sembra che non guardo nulla, ma mi accorgo di tutto. e viceversa, sembra che guardo tutto e non mi accorgo di nulla. È un po' la storia dell'arbitro che magari non concede il rigore perché non lo ha visto, ma se lo vede lo concede. Insomma, ci sono una serie di variabili in questa realtà che vanno al di là anche di questa domanda che tu mi hai posto, perché ce ne potrebbero essere 3.000 di domande e con 3.000 risposte esatte e con 3.000 risposte sbagliate. Davvero, è una situazione molto molto variegata. Io stesso, per esempio, ho messo al coro una persona anziana e mi sono rivisto proprio pochi giorni fa con la figlia che abita a Firenze. Sapevo benissimo che questa persona anziana non avrebbe potuto né cantare né fare altro. Ma io ho fatto un'operazione che va al di là. Certamente. È un'operazione sociale. Quindi questa era una persona che faceva playback. Aveva bisogno di stare là. Però io dovevo farla, questa operazione. Soprattutto per lui. Soprattutto per lui, ma per un fatto proprio di etica professionale, etica sociale, credo. Perché il mio è un ruolo anche sociale che non deve essere così, diciamo, relegata a un mero ruolo di direttore, perché io non dirigo nulla, sostanzialmente. Certamente. Senti, proprio una domanda flash, ma probabilmente già conosco la risposta. Ti ha fatto mai arrabbiare qualcuno? In maniera anche considerata. Sì. È successo anche l'anno scorso. Tant'è vero che io questa persona la sto ancora cercando. Non vi siete incontrati più? No, ci siamo incontrati, senz'altro. Però, di fatti, ho già parlato con due persone in questi giorni, perché ovviamente su 700 persone, io conosco tutte le persone che ho inserito io, ma le persone che c'erano già prima, è chiaro che adesso mi sfugge qualche nome, non posso ricordare tutto. E l'anno scorso è successo, un siparietto un po' problematico, con una persona, perché io due cose chiedo ai coristi, anzi approfitto di questa trasmissione, ti ringrazio pure per questo, per ribadirlo a tutti quanti. Due cose chiedo. Che ci si vesta in nero, almeno i pantaloni e le scarpe che siano nere, perché... E' il minimo, no? Però non... Molte volte mi trovo a dover dire a qualcuno che magari ha le scarpe nere con la suola bianca, che è 3 cm spessa, e quindi il bianco prevale sulle sue... con le scarpe marroncine, insomma, io l'ho fatto presente, più di qualcuno è andato a casa a cambiarsi, perché ce ne sono stati molti l'anno scorso. E questa persona poi ha avuto anche un battibecco con me, però era venerdì santo, io volevo rimanere un po' calmo e sereno, quindi non sono andato oltre. Però già alla prova che abbiamo fatto, ho chiesto di questa persona, perché io devo parlarci, gli devo spiegare il motivo per cui... ma ha quattro occhi, è diverso che non... E quindi, ecco, questa... Poi, un'altra cosa che chiedo, per esempio, gli occhiali da sole, magari... Non c'è zitta. Ma assolutamente no, cioè... Oppure ci sono persone che continuano a truccarsi in una maniera smodata. Ecco, queste sono le piccole cose che chiedo. E purtroppo su 700 persone c'è sempre la persona che magari lo fa, o perché non vuole, o perché magari ha fatto sempre così e questo cambiamento non lo vuole. Però il problema è un altro, è che adesso piano piano comunque si stanno adeguando, per cui se ce n'è una sola all'interno del gruppo si nota paradossalmente di più. E quindi speriamo di riuscirci. Magari faccio un appello, ecco, anche a tutti quanti, cercate, insomma, almeno quest'anno di adeguarvi a queste piccole disposizioni, non costa nulla, insomma. Grazie. 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 Grazie.